C'è un equivoco di fondo, non so più come dirvelo. L'Europa non ci sente, l'Europa di noi non interessa nulla. È un problema nostro che ci dobbiamo gestire da soli. Ce l'hanno detto in tutte le salse. Continuiamo a dire che ci sono dei trattati internazionali che valgono per tutti. Non si è capito per quale motivo valgono per l'Italia, non valgono per la Francia che chiude le frontiere, non valgono per l'Inghilterra che li raccoglie in mare e li scarica poi in Sicilia, non vale per l'Ungheria, non vale per moltissimi altri paesi che hanno deciso tra l'altro di prendere delle cuore. L'Inghilterra li prende a Caletti e li scarica in Sicilia.